Tutto esaurito e applausi a scena aperta per i concerti inaugurati del Festival Piacenza Musica, evento musicale targato Conservatorio Nicolini. Sabato scorso il violoncellista di fama internazionale Enrico Dindo ha diretto l'orchestra del Nicolini scegliendo un repertorio tutt'altro che scontato con musiche di Glazonov, Vorchak e Beethoven. Un concerto inaugurale di un festival che vuole celebrare anche la ripartenza, una speranza. Sì, noi musicisti siamo rimasti per molto tempo insomma un po' silenti, un po' in silenzio. Noi la nostra musica personalmente ai musicisti non è mai mancata perché a casa nostra appunto prendiamo i nostri strumenti e suoniamo e quindi non ci facciamo mancare la musica. Ci è mancato molto il pubblico che invece piano piano comincia finalmente a riassaporare la gioia insomma della condivisione dell'arte e della cultura. Questa è la cosa più importante. Sono molto felice di partecipare a questo evento in questo bellissimo conservatorio e in questa bellissima sala. È una sala molto bella con una bellissima acustica. Il primo appuntamento del festival, fortemente voluto dal direttore del conservatorio Walter Casali, ha visto la presentazione del libro sui 180 anni dell'istituto musicale piacentino da parte delle curatrici Maria Teresa della Borra e Patrizia Florio, intervistate da Angelo Foletto. Abbiamo cercato di illustrare tutti gli aspetti che contribuiscono a creare la vita del nostro conservatorio, dai corsi alle attività, agli strumenti, alle iniziative che facciamo anche all'esterno, quindi per dare proprio una visione completa della vita e dell'importanza che questo istituto ha all'interno della città ma anche a livello nazionale.